E a proposito dei prezzi della benzina, avete notato che a fine di novembre, dai primissimi giorni di dicembre, c'è stato un forte aumento del costo dei carburanti. E questo perché? Perché sapete che tutti gli anni, per la settimana che precede Natale, c'è l'aumento. Perché sistematicamente, così come la settimana che precede Ferragosto, la settimana che precede Pasqua, cioè quando si prevede un particolare movimento di auto, quindi quando si prevede che ci saranno forti consumi, si aumenta una settimana prima per guadagnare più soldi. E' un sistema furbesco, un sistema da ladri, perché tecnicamente viene definito così, ma che ormai ci siamo abituati. Chi produce e vende carburanti preferisce guadagnare di più che guadagnare di meno e quindi, come fa, aumenta nel momento dei maggior consumi. Quest'anno però, bisogna riconoscere, che non hanno aumentato la settimana prima, hanno evitato che noi potessimo criticarli. L'hanno aumentato tre settimane prima, all'inizio del mese. Quindi non si può accusare avete aumentato apposta per le feste di Natale. No, hanno aumentato per tutto il mese di dicembre. Questo vuol dire essere onesti e, se fossimo un paese serio, bisognerebbe metterli in galera insieme a tanzi e insieme a tanta altra gente. Ma, visto che siamo in Italia, più che sorridere non si può fare.